È una nave progettata per essere inaffondabile ed è inaffondabile non soltanto perché è progettata in tal modo ma anche perché è una nave a vela e le navi a vela sono le più sicure in assoluto. Ovviamente non devono andare contro gli scogli con violenza squartando lo scafo e non devono imbarcare acqua. Così sono inaffondabili ma comunque bisogna saperle gestire. Anche questo è risaputo, ovvero la nave a vela ha bisogno di grande competenza per essere guidata ed una competenza maggiore del motoriot. Se questa competenza è ben espressa la nave è inaffondabile.